Posteggi blu liberi al sabato e gratta e sosta gratis per gli esercenti. A Magenta, Comune e ASM hanno trovato l'intesa per garantire la sosta gratuita nel periodo natalizio. Per tutti i weekend fino al 2 gennaio, infatti, si potrà parcheggiare liberamente in tutti gli stalli della città. Sono particolarmente soddisfatto del lavoro che insieme ad ASM siamo riusciti a fare in un periodo non certo semplice, ha sottolineato l'assessore alla viabilità Simone Gelli. Il risultato di questa collaborazione vedrà la possibilità di avere la sosta completamente gratuita in tutta la nostra città. In più, proprio per agevolare ulteriormente il mondo del commercio, dai prossimi giorni saranno a disposizione dei nostri commercianti 8000 gratta e sosta che gratuitamente verranno consegnati dagli operatori di ASM e gli esercizi che ne faranno richiesta al fine di incentivare maggiormente la propria clientela, continua l'assessore. I gratta e sosta saranno consegnati in blocchetti da 50 e ognuno è valido su tutti gli stalli blu per 30 minuti. I commercianti interessati potranno rivolgersi al comune per ottenerli e poi distribuirli ai propri clienti, per garantire il parcheggio gratuito anche durante la settimana. Un'ulteriore iniziativa che si aggiunge alla diminuzione dell'Atari e al contributo per le luminarie, promossa dal comune per aiutare il commercio cittadino. Un aiuto concreto, conclude Gelli, che la nostra amministrazione vuole mettere in campo in un momento in cui la categoria risulta essere una delle più colpite dall'emergenza Covid. Andiamo dunque avanti con la consapevolezza di aver messo in campo anche in questo settore importanti risorse a favore di tutta la nostra comunità.